Antoine Delonis è stato un artista poliedrico, pittore, miniatore, maestro di vetrate, scultore, autore di disegni per ricami. Fu nella seconda metà del 1400 una figura straordinaria per la cultura artistica del nostro territorio. A contatto con la cultura fiamminga, mediterranea e savoiarda è portatore di una concezione europea del Rinascimento. A lui è dedicata una bellissima mostra, aperta fino al 10 ottobre al Museo Diocesano di Susa, che avrà una seconda parte poi a Torino, a Palazzo Madama, nel Museo Civico d'Arte Antica, da settembre al gennaio 2022. Ma perché questa mostra a Susa? Proprio per lo stretto legame che l'artista ebbe con il territorio. Basti pensare che l'unico documento noto sulla sua vita lo registra abitante di Avigliana nel 1462. È soprattutto dalle sue opere però che si deduce il legame con la Valle di Susa. Su tutte, gli affreschi dell'Abbazia della Novalesa, il politico oggi nella chiesa parrocchiale di Novalesa, proveniente dall'Abbazia, un ciclo di affreschi che decora la cappella della Madonna delle Grazie a Foresto, vicino a Bussoleno, un vero gioiello. A Susa, al Museo Diocesano, la mostra presenta circa 40 opere suddivise in percorsi, alcune mai esposte al pubblico, provenienti da collezioni pubbliche e private. In mostra un percorso è tutto dedicato a Antoine de Leonie e la Valle di Susa, con alcuni frammenti di intonaco affrescato, recuperati negli scavi archeologici e provenienti dal Museo di Novalesa, che permettono di evocare le grandi imprese decorative eseguite per Giorgio Provana, nella cappella di suo patronato e nel presbiterio dell'Abbazia. La città metropolitana di Torino, che è dell'Abbazia di Novalesa e la proprietaria dal 1972, è particolarmente interessata alla valorizzazione culturale di questo patrimonio, che offre il senso e la dimensione di quanta storia sia passata sulle strade della Valle di Susa. Qui in Mostra Susa abbiamo anche degli oggetti importanti provenienti dalla Novalesa, in particolare dei frammenti di affresco, che normalmente sono conservati, sono esposti e sono visibili al Museo archeologico dell'Abbazia di Novalesa, ma l'Abbazia di Novalesa fa anche parte dei percorsi fuori mostra, che abbiamo curato e che sono, diciamo così, una sezione sul territorio sempre legata alla mostra di Antoine Delonis, poiché a Novalesa, sia all'interno dell'Abbazia che nella chiesa parrocchiale, vi sono dei politici e degli affreschi attribuiti ad Antoine Delonis, molto importanti e molto interessanti, che proseguono idealmente il percorso che inizia in Mostra e prosegue poi nel territorio. Qua nel Museo di Ocesano, inoltre, abbiamo anche all'interno della collezione permanente, da poco ricomposto una sala tutta dedicata a Sant'Eldrado, in particolare alla Cassa Reliquiario di Sant'Eldrado e agli oggetti che abbiamo ritrovato all'interno. Quindi anche questo collegamento con Novalesa per noi è molto importante perché ci consente di continuare a leggere il territorio sia fuori che dentro le sale museali.